Di Battista, buonasera Buonasera Paragone, a lei e a tutti i telespettatori Allora, cominciamo subito da questo stadio, stadio della Roma Perché stavolta sì e invece quando eravate all'opposizione no? Beh, innanzitutto c'è l'amministrazione che se ne occupa, io non mi occupo di Roma Notavo che qualora dovessimo dire sì, stiamo con i palazzinari Se dovessimo dire no, siamo quelli che dicono sempre no Se si troverà un accordo per ridurre le cubature, facciamo compromessi, siamo come la vecchia politica Tanto qualsiasi cosa fa il 5 Stelle attaccano Io sono convinto che si troverà una soluzione per fare lo stadio della Roma E per me anche la Lazio deve avere lo stadio Tra l'altro c'è il Flaminio in un quartiere splendido che dovrebbe essere preso per me dalla Lazio E verrà trovata senz'altro un accordo per limitare le cubature E far sì che sia un bel progetto uno stadio e non una colata di cemento e un nuovo quartiere L'ormai ex assessore Berdini vi accusa di dedicarvi allo stadio ma non alle periferie Ma era assessore, doveva lavorare, ma appunto Gli assessori cambiano, quello che viene considerato caos a Roma in altre parti si chiama rimpasto Cambio di assessore, a me non preoccupa questo Si va avanti e Virginia troverà un altro assessore Tra poco torneremo a parlare anche noi dell'affare di Maio con la Raggi, dello scambio di sms Però le volevo chiedere, siccome in politica certi fatti contano, non sono un po' troppe le dimissioni? Cioè con un equilibrio così è difficile poi amministrare la città, tanto più la capitale? Certo, però a paragonio non mi aspettavo nulla di diverso Perché stare nel movimento e amministrare Roma ci vuole pure tanto coraggio Io l'ho sempre detto ma veramente tutti me lo riconoscono in campagna elettorale Per me amministrare Roma è più difficile che fare il Presidente del Consiglio Andiamo avanti, si stanno facendo appalti trasparenti Ci vogliono sette mesi per farli Ci si è messi conto, ci sono comunque dei poteri importanti qui Penso anche ai poteri di Caltagirone e delle Olimpiadi Si va avanti, dritti verso uno scopo che è quello della legalità E del ridare giorno dopo giorno diritti ai romani Ma sono finite le dimissioni? Ma questo non lo so, ma potrà capitare che qualche assessore se ne andrà e arriverà qualcun altro Ma figuratevi, il problema non è se se ne va un assessore e viene sostituito Il problema è che non se ne vanno questi dal governo E siamo di fatto al quarto governo non eletto, non passato da elezioni politiche ma scelto altrove Per me questi sono i problemi, non un assessore che cambia Allora veniamo agli sms tra Di Maio e Laraggi Voi avete pubblicato la chat integrale, i giornali sostengono che hanno riportato la chat tra Laraggi e Marra Vi sentite al centro di che cosa? Un bersaglio mediatico, una guerra mediatica, che cosa? Ma Paragone, insomma io devo adesso parlare di una chat, di una frase strapolata Grazie a Dio Luigi aveva tutta la chat, pensate se non l'avesse avuta Lo stavano attaccando per delegittimarlo Ma guardi che quando la stampa si perde così tanta credibilità Perché ormai non ci crede più nessuno a quello che scrive la Repubblica di De Benedetti Ahimè il Messaggero, altri giornali Non ci crede più nessuno Quando succede questo è un problema Non soltanto dei giornalisti, sono problemi loro se non sanno fare bene il loro mestiere Ma il problema vero è per la democrazia Perché è importante che ci sia una stampa capace di fare le pulci ai governi Ai partiti politici, alle forze politiche Pensate se tutta l'attenzione rivolta su un sms, una frase, una chat L'avessero rivolta alle banche d'affari che si sono infiltrate Si sono ormai infiltrate nella democrazia Qua non è più democrazia, è bancocrazia Io sto girando l'Italia facendo nomi e cognomi di tutte le persone che hanno lavorato in Italia Nel Ministero dell'Economia, nel Dipartimento del Tesoro E sono finite in qualche banca d'affari oppure provengono da banche d'affari Pensate se la stessa attenzione fosse stata rivolta a queste Che sono questioni che davvero colpiscono le carni dei cittadini e i risparmi dei cittadini Probabilmente questo paese sarebbe più giusto Invece si parla di una chat Tra l'altro Luigi gli ha fatto fare una brutta figura E spero che con questo... Tra l'altro neanche hanno chiesto scusa Comunque andiamo avanti Il problema vero dell'informazione in Italia È che ci sono editori impuri come Berlusconi, De Benedetti, Calta Girone Che utilizzano il loro sistema mediatico per salvaguardare i loro interessi economici E questo è drammatico però a paragone le informazioni stanno circolando Anni fa non lo sapevamo Oggi tanti tanti cittadini sanno chi c'è nel Consiglio di Amministrazione di Repubblica A chi appartiene il Messaggero, a chi appartiene il Mattino A chi appartiene magari altri giornali se sono di Berlusconi E si fanno un'opinione Capiscono che se la linea editoriale va contro il Movimento 5 Stelle Perché sanno che un domani... Vi sentite un bersaglio? Ma vi sentite un bersaglio e perché? Io se la Repubblica di De Benedetti ci considera un bersaglio Francamente credo che stiamo percorrendo la giusta strada Allora vi faccio vedere invece questo servizio sui tanti Volta Gabbana nel Parlamento E poi parliamo del voto Arriva la carica di Volta Gabbana La legislatura è in corso Passerà agli annali come quella con il maggior numero di parlamentari che hanno cambiato casacca A ingrossare le proprie file sono stati gruppi parlamentari dei partiti di governo PDN e CD tra Camera e Senato hanno guadagnato rispettivamente 17 e 55 parlamentari in meno di 3 anni Pensate che sono 264 gli eletti che da un giorno all'altro hanno cambiato casacca Per un totale di 388 passaggi Spesso vanno in gruppi nuovi di zecca e per ognuna di queste nuove formazioni La Camera sborsa 400 mila euro l'anno e il Senato 250 mila Insomma i cambi oltre che essere scorretti sono anche costosi per i cittadini Più di 2 milioni di euro l'anno Oggi alla Camera dei Deputati ci sono 11 gruppi parlamentari Il più grande di tutti è il gruppo misto con 53 iscritti Praticamente il terzo raggruppamento alla Camera dopo PD e Movimento 5 Stelle Ma chi sono i parlamentari che hanno fatto più giravolte? I deputati Ivan Catalano, eletto con il Movimento 5 Stelle E Stefano Quintarelli con scelta civica Hanno cambiato 4 casacche Ma l'uomo dei record resta il senatore Luigi Compagna Che in 3 anni di legislatura ha cambiato maglia per ben 6 volte Insomma sembra che il valser delle poltrone Non smetta mai di far ballare i nostri parlamentari E che si vada a votare o no Con una media di 9 cambi al mese Le cifre sono destinate a salire Di Battista, il partito del Vitalizio riuscirà a fermare il voto anticipato? Beh questo tra l'altro questo bel servizio denuncia qualcosa che noi denunciamo dal primo giorno Il Movimento 5 Stelle se dovesse avere la maggioranza Proporrà appunto una modifica costituzionale di fatto Ovvero coloro che vengono eletti con un partito Possono andare negli altri partiti ma prima si dimettono e si fanno rieleggere Tra l'altro se non sbaglio c'è un articolo del genere nella Costituzione del Portogallo Perché nessuno ha votato il gruppo misto Nessuno ha votato il nuovo centrodestra Non è che c'era il nuovo centrodestra su una scheda elettorale Però appunto nascono questi gruppi Ed è antidemocratico tutto ciò per quanto ci riguarda Non mischiassero la cosa, il vincolo di mandato I padri costituenti Sono passati tanti anni Questa è gente che semplicemente non vuole abbandonare la poltrona Sul partito del Vitalizio Ci sarà pure norma? Noi ce la stiamo mettendo tutta perché di fatto la legislatura è finita Serve soltanto il Parlamento a ratificare il decreto salva banche L'ultimo che ha permesso in 24 ore a Gentiloni di trovare magicamente 20 miliardi di euro Da dare alle banche per coprire i debiti fatti da alcuni banchieri Che veramente hanno fatto degli atti criminali Alcuni banchieri che fanno sembrare certi reati di mafia capitale Reati da rubagalline al confronto se parliamo di soldi Pensate E io noto che il Parlamento ormai serve a questo Serve a tirare fuori denari per le banche Ma di fatto la legislatura è finita Secondo me nessuno del Partito Democratico vuole andare al voto Ma li vedete che si scontrano tra correnti e controcorrenti Non c'è mai un tema Non si parla mai di reddito di cittadinanza Una misura sulle piccole imprese Non parlano di banche se non accusarsi a vicenda Renzi dice Ah ma è un problema Non sono un problema le banchette toscane Glielo dicesse ai risparmiatori truffati di Banca Etruria Sono molto più gravi i problemi di alcune banche pugliesi Non lo so sono dei messaggi mandati ad Emiliano Cioè addirittura si auto accusano Chi è più responsabile di qualcosa Io non lo so Vi rendete conto che il partito di maggioranza è questo Che litiga sul congresso Su una data, su una poltrona, su una corrente E non parlano mai di un tema Per quello noi giriamo l'Italia Io venerdì sarò a Varese A parlare in piazza di come poter ostacolare la bancocrazia E come poter piazzare il reddito di cittadinanza Perché senza reddito di cittadinanza 130.000 giovani all'anno fuggono dall'Italia Allora mi sembra che voi abbiate le idee chiare Perché alcuni di questi punti Lei li sta ripetendo da tempo Però la legge elettorale attuale O tu arrivi al 40% Quindi scatta il periodo di maggioranza E allora ce la potreste fare Altrimenti bisogna fare delle alleanze sotto il 30% Allora ci avete pensato a questa opzione Perché il 40% ve lo posso augurare Però non è facile Certo Paragone È complesso Però crediamo che parlando di temi Presentando una squadra di governo Prima appunto delle elezioni È un risultato alla nostra portata Allo stesso tempo le dico Che qualora dovessimo vincere le elezioni Cioè prendere fondamentalmente un voto più degli altri Il Presidente della Repubblica ci dovrà affidare l'incarico di governo E ci presenteremo come vuole una Repubblica parlamentare Alle camere Con un programma Dicendo questo Paese ha urgente bisogno di Una manovra a sostegno della piccola e media impresa Un reddito di cittadinanza per contrastare la povertà Perché ci sono milioni di italiani Che vivono al di sotto della soglia di povertà E poi delle leggi che servono a dare trasparenza Al sistema bancario E magari a dividere le banche d'affari Dalle banche commerciali Per evitare altri crack futuri E altri risparmi bruciati dei risparmiatori Voi Parlamento Siete disposti a portare avanti queste leggi Che il governo diciamo in un certo senso Auspica Perché sono leggi molto importanti A fare il lavoro del Parlamento Perché in una Repubblica parlamentare È il Parlamento che deve fare le leggi Noi ce la giochiamo in Parlamento E voglio vedere se le forze politiche Magari da destra a sinistra Si perderanno l'occasione di fare in Parlamento Una legge urgente sul reddito di cittadinanza A sostegno della piccola e media impresa E se saranno capaci di prendersi la responsabilità Di fronte al Paese intero Che ha bisogno di queste leggi Di dire no si riva al voto Questo è il nostro progetto politico Fermo restando che puntiamo al 40% Siamo nati da poco Nessuno si aspettava che avremmo preso il 25% Nessuno si aspettava che il referendum Comunque Renzi l'avrebbe perso In queste dimensioni Tra l'altro anche lì la stampa lo pompava Vede come purtroppo il sistema mediatico Ha perso di credibilità Perché non ne ha azzeccata una Da Brexit a Trump al referendum E non sto paragonando i fenomeni Ecco noi siamo nati da poco Abbiamo avuto ottimi risultati Stiamo facendo delle cose importanti Risparmi su risparmi I nostri soldi che ci tagliamo Tante imprese che stiamo sostenendo Vedremo quel che succederà Di Battista A proposito di banche e di banchieri Dopo vedremo un servizio Che ci riporta in verito Però la domanda è L'ha sentito Mario Draghi Ha detto che l'euro è irreversibile Per voi? Allora noi come sa Abbiamo proposto un referendum Consultivo E io ci credo tantissimo Nella democrazia diretta Per me un domani Vedremo la democrazia rappresentativa Come oggi guardiamo Alla monarchia assoluta Come qualcosa proprio di molto vecchio Di obsoleto Ma Draghi chi? L'ex direttore generale del Tesoro L'ex governatore della Banca d'Italia Il presidente della BCE Che è stato advisor di Goldman Sachs Dal 2002 al 2005 Vice presidente sempre di Goldman Sachs Nel periodo in cui le banche d'affari Tra l'altro speculando evidentemente Davono il là ad una crisi Prima finanziaria Poi economica E oggi sociale Perché oggi in Italia c'è una crisi sociale Purtroppo oltre che economica Grazie alla loro speculazione Queste persone Draghi è colui che disse Fa bene MPS A comprare di fatto A questo prezzo esagerato Se non sbaglio Anton Veneta E poi hanno dovuto Comprare dei derivati Per coprire i debiti E oggi ce li mettiamo noi Questi quattrilli in MPS E neanche possiamo sapere Tutti coloro Che devono ridare soldi ad MPS Draghi Queste persone sono finite Per me politicamente Per me E' il mio pensiero L'euro non è una moneta Ma un sistema di governo E non ci sarà mai Libertà per un popolo Senza la sovranità monetaria Per cui questa è la mia idea Però dovrà decidere Il popolo italiano Allora vediamo insieme Questo servizio Che ci porta in Veneto E lo commentiamo Per restare sul tema delle banche Grazie